mi fa molto piacere perché è un segnale importante di quello che noi stiamo dicendo dal da sempre c'è una importantissima collaborazione tra la Dfor del Ministero delle Politiche Agricoli e il comando delle unità forestali ambientali e agroalimentari dei Carabinieri dei Carabinieri. Con quest'ultimo noi abbiamo anche sottoscritto un importante protocollo d'intesa e mi fa piacere ricordarlo perché è un protocollo che era nato eh quando c'era al comando il generale ehm aiuto ecco adesso comincio con le con le gaffe D'Angelo D'Angelo esatto Ciro D'Angelo e che appunto ha voluto eh sottoscriverlo eh anche se ormai diciamo è in chiusura del del suo mandato ed è stato invece ripreso e portato avanti dal generale Marzo. Questo per noi è stato un segnale importantissimo perché eh ha dimostrato quanto eh l'arma dei Carabinieri abbia creduto eh in questo protocollo che è stato subito operativo. Abbiamo attivato quindi la collaborazione poi tra i nostri colleghi che sono stati individuati dagli ordini territoriali in quali referenti proprio per eh l'attuazione di queste collaborazioni sul territorio e i comandi eh dei Carabinieri appunto eh locali. Eh oltre questo ehm naturalmente la il continuo sviluppo, il continuo rapporto con eh la di Ifor grazie eh alla direttrice, la dottoressa Stefani eh con cui naturalmente abbiamo anche un grande rapporto di amicizia che facilita a superare anche altre questioni diciamo istituzionali. Quindi eh da questa collaborazione è nata questo importante momento di confronto perché come diceva Marco noi non dobbiamo mai dimenticare che purtroppo ancora grande e importante è il traffico di eh legname illegale che eh rappresenta una percentuale importantissima di quelli che sono il fatturato eh della della malavita e che tra l'altro eh mi preme evidenziare rispetto ad altri aspetti legati alla malavita eh coinvolge degli attori legali spesso anche inconsapevoli eh che stanno importando del del legname eh di appunto eh origine non controllata. Eh dal duemila dieci quindi è nato questo importantissimo regolamento comunitario e eh il nostro ministero ha attuato eh da fin dal duemila quattordici ma poi con continui aggiornamenti con continui aggiornamenti e eh importanti documenti eh di supporto quali linee guida anche per noi operatori cercando appunto di renderlo eh realmente operativo. Si sono incontrate eh non poche difficoltà e noi speriamo con il contributo appunto di tutti gli attori principali eh per l'attuazione di questo fondamentale regolamento di eh riuscire a risolvere qualche dubbio eh relativamente attività che competono a noi professionisti ma comunque sappiate che i tre rappresentanti che sono qua presenti quindi il CONAF, la DIFOR e il CUFA sono eh in stretto contatto e quindi possono anche supportarvi a livello locale nel caso ci fossero eh ulteriori difficoltà. Eh siccome ci sono parecchi interventi e poi probabilmente sarà importante anche lasciare uno spazio eh per le vostre domande e quindi un dibattito magari alla fine io chiudo qua il eh mio discorso di introduzione ai lavori auguro a tutti noi appunto eh un buon proseguimento di questo interessante evento e ripasso la parola al mio consigliere Marco Bonavia